Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con la lettura di oggi andremo a approfondire la prima linea della lettura generale. Nella lettura generale avevamo visto una parte per la spiritualità, diciamo l'evoluzione spirituale, nella prima parte del 2023, una linea era per l'amore e le relazioni, l'altra linea era per il lavoro. Ecco, ci sarà un video per ognuna di queste linee. Oggi andiamo a vedere l'evoluzione spirituale. Allora, ho ripreso le carte che avevamo in quella lettura, quindi l'energia generale è la luna, dopodiché abbiamo una regina di pentacoli, un sette di pentacoli, abbiamo un carro al contrario, la regina di spade al contrario e un imperatore al contrario. Allora, qui ragazzi c'è qualche tipo di discorso a livello di... c'è qualcosa che ha a che fare secondo me con la femminilità, avendo la luna, avendo la regina di pentacoli e la carta del sette di pentacoli. Perché dico questo? Perché normalmente quando c'è la carta della luna è associata alla parte yin, la parte ricettiva e con il sette di pentacoli che parla di attesa, anche di dolce attesa e anche la regina di pentacoli è quell'energia creatrice da un punto di vista materiale. Quindi qui per qualcuno si può fare riferimento a qualche tipo di questione o legata a una madre o legato al concepimento o alla gravidanza, mi vorrebbe da dire. Può essere il concepimento di un'idea e ovviamente non necessariamente deve essere il concepimento di un bambino. Però ecco, c'è... la luna parla anche di sogni, quindi per qualcuno si potrebbe trattare di un sogno. Il punto qual è? È che con questo carro al contrario, credo che si faccia un po' fatica a muoversi dal tipo di o pensiero o proiezione, perché la luna, se ci fate caso, è illuminata a metà, l'altra metà non si vede. Ed è un po' quello che dice la proiezione, è come fare una valutazione di una questione riuscendo a vedere solo parte di questa questione. Quindi il carro in un certo senso vi dice che non prenderete grosse scelte, non farete grossi movimenti in avanti, la vedo un po' come una sorta di prudenza, perché poi comunque abbiamo anche la regina di spada al contrario, qui c'è da capire bene che cosa c'è bisogno di tagliare. Quando al contrario normalmente parla di una mal organizzazione, di una confusione mentale, di qualcuno che non è capace di tagliare qualche cosa. Terminiamo poi con la carta dell'imperatore e qui sento ragazzi che cambieranno delle stabilità, perché quando c'è l'imperatore si fa sempre riferimento a quello che è una stabilità di tipo concreto, per qualcuno fa riferimento magari alla casa, perché è un numero 4, il 4 è un quadrato, fa riferimento normalmente alla casa. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a spiegare con i mini tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non tutto risuoni con voi. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio potete sempre ascoltare l'ascendente segno lunare o venere. Per chi volesse contattarmi poi trova l'indrizzo email sotto nella descrizione del video. Allora, per la regina di pentacoli abbiamo un sette di bastoni al contrario e un tre di coppe. Credo che qui ci sia un discorso di gruppo, con questo tre di coppe che parla di amici, parla di festeggiamenti. Io credo che ci sia qualche tipo di faccenda, se non è da un punto di vista pratico, ma credo di sì perché la regina è di pentacoli. Potrebbe anche semplicemente essere da un punto di vista un po' più astratto, però c'è qualche faccenda legata ad un gruppo che vi tiene, come vi posso dire, non ancorati ma, sì, legati in un certo senso a quello che è il gruppo. Può essere un gruppo familiare o un gruppo di lavoro. Sa di fatto che il tre di coppe parla di festeggiamenti, quindi è un po' come, non dico essere riconosciuti perché, vi dico questo perché il sette di bastoni al contrario è la carta di chi smette di essere da solo e poi incontriamo il gruppo, questo tre di coppe. Quindi io qui credo che ci sia una ricerca di iscritti, mi dicono, o quello che potrebbe essere una ricerca di una propria espressione a livello concreto in quanto donne. Il tre di coppe è raffigurato con tre donne, è come se trovasse qualche tipo di sostegno. Può anche fare riferimento a una persona della vostra famiglia con la quale si stringe un legame più forte. E può essere una donna, giustamente, visto che c'è la regina di denari. Andiamo a vedere il sette di pentacoli. Allora, abbiamo la stella al contrario, un'altra carta di sogno come la luna e nuovamente il carro al contrario. E in effetti, diciamo che con questo sette di pentacoli, che è una carta che denota un'energia piuttosto lenta, piuttosto statica quasi direi, no? Perché comunque la persona è lì che sta aspettando, sta mandando energia ai semi che ha già piantato, adesso sta aspettando perché crescano. E qui sento che l'energia è un pochettino ferma, sinceramente, ragazzi. C'è qualcuno qua che o non si sposta o non vede. È come se non riusciste a sognare, per certi versi. Perché comunque la stella è gerata al contrario, parla di obiettivi, parla di desideri, parla di speranza, parla di sogni. E anche la luna parla di sogni. Io credo che qui si tratti di prendere una decisione, una scelta per voi stessi, che sia difficile prendere perché in realtà non siete soli o sole. È come se vi doveste portare qualcuno dietro. Che può essere anche un gatto, un cane, figli, genitori, fratelli. E quindi c'è questa sorta di, diciamo, non movimento, perché comunque c'è il carro al contrario. Qui sento una fase un po' così di rallentamento, se vogliamo. Ma perché, avendo anche questa regina... Andiamo a vedere prima il carro, poi per rendere la regina di spade. 4 di spade, asso di coppe, regina di spade nuovamente. Io credo che restare lì dove siete, vi potrà dare la possibilità di ricaricare le pire, di rigenerarvi. Questa vostra staticità, io credo che abbiate bisogno di un momento di riposo. Allora, la luna si vede di notte e di notte normalmente si dorme. Ci si riposa, ci si ricarica energeticamente ma anche fisicamente. E qui sento che è un po' quello. In questo periodo, questa prima fase, diciamo, del 2023 vi aiuterà a capire meglio dove focalizzare la vostra attenzione, ok? Perché comunque avete... Adesso andiamo a vedere la regina di spade. La regina di spade, al contrario, dice che è cofante di bastoni, al contrario, e 5 di coppe. C'è qualche possibilità da lasciare indietro, ragazzi. 5 di coppe è una carta che parla di qualcuno che si piange addosso fondamentalmente. Quindi è l'aver perso un'occasione. E può essere un'occasione con qualcuno. Quando c'è un fante di bastoni, al contrario... Adesso qui non abbiamo carte catastrofiche, tipo morte, tipo torre, tipo diavolo, per ora. Però quando c'è un fante di bastoni, al contrario, parla un po' di... Ego-narcisismo, diciamo così. Quindi io credo che qui ci sia la possibilità per voi di risvegliarvi della dinamica narcisista. Cioè di prendere consapevolezza che esistono certe persone che si comportano così e perché sono così e non ci si può fare niente. Non cambiano. E quindi qui il punto è, ok, cosa taglio per ritrovare la mia stabilità? Andiamo a vedere la torre, perché qua qualcosa cambia. 10 di spade. E un'altra volta la luna. Al contrario. Sì, io sento che inizierete a vedere più chiaro, inizierete a capire che è ora di chiudere quel ciclo che vi ha fatto soffrire così tanto. La carta della luna parla anche un po' di passato, quindi per qualcuno si tratta di un ciclo, magari all'interno del matrimonio, ragazzi. Magari all'interno del matrimonio. Che comunque ha fatto soffrire, che ha fatto patire. C'è qualcosa qui inerente. Il vostro modo di percepire, o la maternità, o il sentirvi utile. Perché poi la regina di denari fa riferimento a un'educatrice, o è un riferimento all'educazione che avete ricevuto. Il fatto che vi abbiano condizionato sul bisogno sempre aiutarsi in famiglia, è un esempio come un altro. Bisogna sempre aiutarsi in famiglia e voi a un certo punto, quando vi trovate davanti a un fatto illegale, dite ma aspetta un attimo. Io non sono tanto d'accordo sul fatto che sempre bisogna aiutarsi in famiglia. Questa cosa per me va contro la mia morale, quindi non sono d'accordo di aiutare questa persona, anche se è un mio familiare. Questo non vuol dire che io voglia meno bene al familiare, ma semplicemente vuol dire che non vado contro me stessa, o me stesso. Ecco, un po' così che lo sento. Va bene, andiamo a vedere la scansione temporale degli eventi, andiamo a vedere mese per mese. E anche qui, ragazzi, vi ricordo che il tempo è fluido, quindi potrebbe essere utile ascoltare la lettura più volte durante l'anno, perché quello che io magari dico con le carte, uscire verso febbraio, potrebbe in realtà uscire verso marzo-aprile, oppure è già a fine 2022, quindi è interessante per voi appunto riascoltare la lettura più volte durante l'anno, proprio per una questione di scansione temporale. Bene, allora andiamo a vedere. A gennaio, vediamo come parte il 2023, parte con un bellissimo nome di coppe, devo dire. Nome di coppe, carta di appagamento, carta di sogno compiuto, eh. Qui avevamo anche, dove era? Qua, la stella. C'è qualche cosa inerente ai sogni. C'è anche di nuovo una regina di bastoni. Un tre di bastoni, quindi la regina di bastoni è per febbraio, il due di bastoni è per marzo. Andiamo avanti. Allora, gennaio, fante di bastoni capovolto nuovamente, ragazzi, ad aprile. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a un figlio, eh, ripeto. Qui anche c'è l'attesa, adesso l'attesa qua è intesa come dolce attesa, ma potrebbe anche essere un figlio più grande, insomma, che per certi versi, eh, così, potrebbe, diciamo, essere un po' egoista. Abbiamo poi anche la carta della forza, vediamo come finiamo a giugno. Una carta, grazie. Wow. Otto di pentacoli, quattro di spade, regina di pentacoli. Allora, vi sposto un pochettino di qui. Ok. Allora, nove di coppe. Quindi, vi dicevo, si parte da un periodo di appagamento, probabilmente gennaio. Qui mi vengono in mente i bagordi, i bagordi natalizi, ragazzi, perché le coppe comunque sono tutte in piedi e si usano per festeggiare, per brindare, ok? C'è una sorta di appagamento, un raggiungimento di tipo emotivo, di un certo tipo di risultato. La regina di bastoni a febbraio potrebbe, diciamo così, rappresentare la stessa energia della regina di pentacoli. Potrebbe comunque essere una persona vicino a voi che, sento, potrebbe darvi qualche tipo di speranza con questo due di bastoni verso marzo. Adesso poi andiamo a vedere con i miei tarocchi anche questa linea. Abbiamo poi il fante di bastoni al contrario che avevamo già qui, quindi diciamo che se rappresenta una persona, potrebbe rappresentare una persona un po' egoista, potreste essere voi, oppure potrebbe essere una mancanza di entusiasmo. E vedendolo comunque anche con il 5 di coppe e la regina di spada al contrario, è facile che per molti sia così. È come una sorta di piccola discesa a livello energetico, no? Non che stiate male, ma manca un po' la spinta. In effetti anche qui la stella era al contrario, è come se mancasse quell'impulso, quella speranza, la fiamma, ok? Infatti qui i bastoni sono rappresentati con le fiamme. Però poi diciamo che a maggio arriva la forza, arriva il coraggio di fare un movimento, arriva il coraggio di prendere una decisione, di fare una scelta. E guardate che cosa abbiamo a giugno. 8 di pentacoli, 4 di spade e regina di pentacoli. La regina di pentacoli ce l'avamo già qui. Io sento che a giugno vi metterete di impegno e farete un lavoro di ristrutturazione, di rigenerazione di voi stessi. Il 4 di spade e la carta e l'arcano, ce l'avete anche qui tra l'altro. E' l'arcano minore della temperanza, è una carta che parla di guarigione. E sento qui, guardate, due volte la regina di spade e due volte la regina di denari. E sento che qui potrebbe essere una persona di famiglia a darvi una mano, a rimettervi in pista, diciamo così. Che non è che sento che siete andati fuori pista, però è come se qui ci fosse una sorta di stand by. Ecco, lo potrei vedere qui, diciamo, verso marzo, perché qui abbiamo una carta di attesa e il carro, al contrario, che indica un non-movimento. Non-movimento proprio perché c'è bisogno di questa fase, ok? Di rigenerazione. Quindi qui, diciamo, c'è una sorta di indecisione, ma verso la fine del periodo, verso la fine del semestre, ragazzi, si va... Verso un movimento maggiore, perché abbiamo una forza comunque, eh. Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta. Andiamo a vedere un 9 di coppe per piacere, grazie. Abbiamo un 8 di pentacoli e un 6 di spade. Vi vedete? Sì. Ok, l'8 di pentacoli ce l'avamo già qui, a fine lettura. Io credo che qui ci sia, a gennaio, qualche tipo di quotidianità, che comunque non è male, nel senso, siete piuttosto appagati da questo tipo di quotidianità, può essere questo tipo di lavoro, o anche il lavoro spirituale che avete già fatto, ok? Però qui c'è ancora bisogno di distanziarsi da alcune credenze limitanti e ereditate. Come vi dicevo, c'è qualche cosa inerente, o il modo di percepire le collaborazioni, o il modo di venirsi incontro, di aiutarsi in famiglia, ok? Qui c'è qualche condizionamento mentale da rielaborare a gennaio. Andiamo a vedere a febbraio, la regina di bastoni. Abbiamo un 9 di spade e il 10 di pentacoli al contrario. Allora, qui c'è un ciclo che non si chiude con questo 10 di pentacoli al contrario. Ho quasi l'impressione che... Datemi ancora un'altra carta per piacere. Fante di pentacoli. Ho come l'impressione che ci sia una persona, appunto, questa regina di bastoni. Che tenderete un po' a mettere sul piedistallo, mi dovrebbe da dire. Poi decidete voi chi è per voi la regina di bastoni, nel senso che ognuno lo applica poi alla propria realtà. Però quello che sento è che qui c'è qualcuno che non vuole probabilmente ferire qualcun altro. Ha paura di interrompere certe dinamiche se dovesse cambiare il modo di comportarsi nei confronti di questa persona. Perché c'è un 10 di pentacoli al contrario, ragazzi. Qui è un ciclo che non si chiude. È qualcuno che sta ancora dando energia a questo tipo di situazione o a questo tipo di relazione. Però poi qui arriva l'indecisione a marzo. Andiamo a vedere su due di bastoni. Il due di bastoni è una carta che dice che da un lato, adesso in questo mazzo è un po' rivisitato, quindi si è un po' perso il significato. Nel mazzo originale il ragazzo afferra un bastone con una mano e con l'altra invece si appoggia tipo alla balaustra. È un modo di dire resto fermo qui, afferrato al bastone che è qui, oppure vado avanti. Vado verso il mio futuro. E qui è la stessa cosa. È questa indecisione tra, mi verrebbe da dire, ma perché abbiamo due figure. Guardate un altro set di pentacoli che ero già uscito qui. Sto dove sono fondamentalmente o vado. C'è una sorta di impazienza con questo set di pentacoli al contrario. Poi abbiamo un set di spade, una regina di spade, un'altra regina di pentacoli al contrario, un asso di pentacoli al contrario. Ragazzi, io credo che qui qualcuno ci si renderà conto che tutto quello che vi avevo detto qua all'inizio della lettura, questo collaborare, questo modo di collaborare. Non so che qua andrete un po' a rivedere. E qui vi vincolerà parecchio. Cioè nel senso, da un lato siete comunque appagati da un punto di vista emotivo, ma è un 9 di coppe, non è un 10. Quindi manca ancora qualche cosa. E qui con questo set di spade qualcuno potrebbe essere che va alla ricerca di questo qualcosa, che si allontana, come vi dicevo prima, da un certo tipo di realtà, da un certo tipo di quotidianità. Qua c'è da rivalutare una persona, probabilmente. C'è una sorta di indecisione e l'impazienza o a rivelare qualcosa o a scoprire qualcosa, perché set di spade parla sempre di qualche cosa che è nascosto. O di qualche cosa che viene proiettato. Vi ricordo che l'energia generale era quella della luna, ok? E qui abbiamo comunque di nuovo un'altra regina di pentacoli e della terza della lettura, devo dire, perché qua non ce l'avevo, no? No, qua avevo quella di spade. Girata al contrario. Quindi è come se... E qui di un'altra volta è la regina di spade. È come se qui ci fosse la necessità di tagliare con qualche tipo di idea o qualche tipo di persona. Fortemente potrebbe essere la regina di bastoni, eh? che si tende un po' a mettere sul piedistallo, appunto, a idolatrare. Andiamo a vedere questo fante di bastoni al contrario. Il carro un'altra volta, terza volta che esce l'energia del carro e il papa. Guardate, ho la sensazione che verso aprile questo personaggio prende, perché poi ce l'abbiamo anche a maggio questa cosa della scelta, col carro ci si muove, ci si sposta, si prende una direzione e con il papa si rende ufficiale questa direzione, ok? Il fatto che sia al contrario. Allora, se rappresenta, come avevo detto all'inizio, una vostra attitudine, una vostra, diciamo così, perdita di entusiasmo, in realtà non la vedo negativa. Nel senso che vi dà modo di calibrare in modo più obiettivo, senza farvi prendere troppo delle emozioni e dei sentimenti, quello che è il passo successivo da fare. Se fosse una persona, ragazzi, qui si va verso una decisione che è o, ok, ufficializziamo la questione, che sia un contratto di lavoro, che sia una convivenza, quello che è, però o ufficializziamo la questione, oppure o prendiamo una direzione o prendiamo l'altra con la carta del carro. E arriva, andiamo a vedere la forza, arriva a maggio questa presa di posizione, questa scelta. Gli amanti al contrario e la luna al contrario. Ci si appresta a trovare l'equilibrio, a lasciarsi indietro anche quelle che sono le proiezioni della luna, appunto. Come vi dicevo, sento che inizierete a fare un lavoro su voi stessi, un lavoro di guarigione. Andiamo a vedere l'otto di pendicoli. Diavolo al contrario e due di bastoni al contrario. Allora, due di bastoni, ce l'avevamo già qui. Io credo che qui lavorerete proprio su questo condizionamento di cui vi parlavo qua all'inizio. C'è qualche cosa che vi portate dietro a livello di bagaglio familiare per quello che riguarda tipo le collaborazioni o i vostri sogni o i vostri... Non so, è un qualche cosa che vi mette in una condizione di dover affrontare certe scelte della vostra vita in funzione degli altri. Probabilmente qualcuno non è da solo o deve rendere conto, magari è un capo. Qua si farà un lavoro, ragazzi, di distacco, due di spade, guardare il futuro. E anche indecisione, è vero, ma qua è girato al contrario, quindi in realtà la decisione si è presa. E avete la forza prima, quindi la decisione si è già presa, di lasciarsi indietro questi tipi di condizionamenti del diavolo. Si fa un lavoro verso la guarigione. E questa regina di... Si fa un lavoro di guarigione nei confronti della regina di pentacoli, ok? Guardate, leggetele proprio come se fosse una frase. Lavoro, guarigione, regina di pentacoli. Ok? Ce l'abbiamo qui, era quella che vi condizionava. Wow, ma che bello, vi libererete fondamentalmente. Inizierete a capire quali sono le proiezioni che vi sono state inculcate da altri, secondo me. È un buon periodo, è un buon periodo. Bene, andiamo a vedere un oracolo ancora. E poi una carta dei guerrieri di luce. Vediamo che cosa altro hanno da dirvi. Ok. Carta numero 30, resilienza. È una carta molto bella, vi dice di non arrendervi fondamentalmente, di andare avanti, nonostante quelle che sono le difficoltà logistiche, che mi verrebbe da dire, perché avete tantissime volte il carro. Una, due, c'era una terza volta e tre. E qui, uno, due, tre volte avete il carro su quattro mazzi. Quindi qui, nonostante appunto ci siano delle difficoltà, dei condizionamenti, probabilmente qualcuno fisico perché avete qualcuno a carico, qualcuno un po' più di tipo mentale, qualcuno di tipo familiare. Però ecco, non mollate fondamentalmente, è questione di tempo, piano piano. Tutti i lavori di pulizia sono un processo, quindi giustamente ci vuole il loro tempo perché, primo, per fare il lavoro e secondo, perché si vede nei risultati. Sapete che, diciamo, nel mondo terreno c'è una sorta di spazio tra quello che si desidera e quando si manifesta. Ecco, c'è da portare pazienza. Avete anche qui sette di pentacoli qui, avete sette di pentacoli qui, quindi c'è un attimino da portare pazienza. Ok. In tutte le cose si va per gradi. Un passo per volta. Baby step. Passi da bambino. Wow. Verità. Vedi la tua luce. Conosci il tuo potere. Abbi il coraggio di parlare, di dire o di camminare attraverso la tua verità. Ecco, togliete le proiezioni e i condizionamenti mentali di questa donna. Ma sì, ma è di lì che andrete, eh. Farete una sorta di pulizia, un po' come riscoprirvi di nuovo e cambierà la vostra stabilità. Perché se voi prima avevate certe credenze che vi sono state inculcate dalla famiglia o dalla società o dal tipo di educazione che avete ricevuto, perché ricordiamoci che comunque la regina di pentacoli parla di educatrice, sento che qui cambieranno le vostre stabilità. Nel mazzo di Osho l'imperatore si chiama il ribelle e fa vedere che ci sono delle catene rotte. Fondamentalmente in quel mazzo, comunque l'energia che vuole esprimere è di rompere le catene già esistenti e di creare le proprie regole, la propria realtà, la propria zona di comfort, quello che per voi è appagante. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi, per quello che riguarda la crescita spirituale nel primo semestre 2023. Io spero che la lettura vi sia stata utile, scrivetemi poi nei commenti. Se volete supportare il canale potete mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi auguro un inizio 2023 splendido, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!